Mirko De Gerone, il Forte ha fatto una prova da grande squadra, mancava Fede Ambrosio, ha saputo dare una serata di grande coesione e temperamento e ha colpito quando serviva di più. Abbiamo dovuto gestire la gara in una certa maniera, naturalmente non possiamo permetterci in queste condizioni di dare spettacolo, ma abbiamo dovuto gestire bene la parte difensiva e cercare, come dicevi te, di colpire quando c'era il momento giusto e c'era il varco. Ci è riuscito tutto abbastanza bene, grazie ai ragazzi perché hanno fatto una partita veramente strepitosa sotto il profilo del sacrificio difensivo e della resistenza, perché è stata veramente pesante come partita. Prestazione di grande autorevolezza, tre vinte su tre, è un Forte Marmi che vuole stare sulla cresta finché si può, non è favorito, ma vuole sgomitare e tenere i gomiti alti fino alla fine. No, noi procediamo sulla nostra strada con i piedi molto per terra, sappiamo i nostri limiti ma sappiamo anche le nostre qualità, quindi non vogliamo abdicare facilmente, abbiamo delle compagini sicuramente più attrezzate di noi, io penso che su tutti il trissino, Lodi, Follonica sicuramente e qualcun'altra magari, però non abbiamo voglia di arrenderci facilmente e lo abbiamo dimostrato anche stasera. Al volo hanno segnato, sì certo, il veterano Eric Tornell, ma anche due giovani di grande prospettiva, Andrea Borgo, lo stesso Diego, insomma è una squadra che guarda anche al domani. Sì, per forza, abbiamo questi quattro ragazzi, a parte Borgo che secondo me è già un giocatore abbastanza completo, ha avuto un periodo così di un problema di malattia che lo ha debilitato, ma si sta riprendendo bene, poi abbiamo altri quattro ragazzi che ci servono, che ci daranno una mano fino all'ultimo, Diego in questo momento è quello che sta meglio degli altri, lo ha dimostrato, ha fatto anche gol, più di così non poteva sperare.